Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Volevo dire due parole su Maurizio Sari, quello che ha detto nell'ultima conferenza stampa pre-partita della sua Lazio. Fa intendere come questo calcio odierno non gli appartenga più. Un calcio che non è più calcio da campo ma è calcio da show, quindi è solo show. Un calcio in cui appunto lui può allenare pochissimo il suo club per far spazio a tante partite, sia club che ovviamente anche nazionali, soprattutto nazionali che portano via del tempo. Un calcio che è l'obiettivo di togliere soldi agli appassionati, insomma critica il calcio odierno. Ma facciamo due conti, quello che dice è anche in parte giusto e anche condivisibile. I club, le squadre non riescono giustamente a far allenare i giocatori correttamente, perché spesso le finestre di nazionali sono ingombranti, ingombranti tanto da togliere tempo e spazio sia allenamenti sia anche le prestazioni stesse delle partite. e poi alla fine. Quindi è anche vero quello che dice ed è quello che spesso noi diciamo, cioè il fatto che sarebbe più giusto fare delle finestre di calcio di mercato limitate, magari più ampie, le due famose anche di cui parlavo qualche tempo fa, e quindi fare due finestre di calcio di nazionali importanti, in cui si concentrano le partite appunto dei nazionali, perda spazio negli altri dieci mesi, insomma pausa a parte, quindi nove mesi, ai club. Questa è una cosa che tutti condividiamo, su questo non c'è nulla a dire. Sul fatto che però questo calcio non appartenga più a uno come Manizio Sarri, e il fatto che dica che lui è un narratore da campo, va un po' a cozzare con una cosa, col fatto che lui stesso ha scelto di rimanere all'interno di questo contesto. Quello che fa un po' specie in quello che dice, ed è la critica che spesso gli è stata mossa da noi dopo quando viano, è il fatto che non si è all'altezza di questo calcio. Se questo calcio gli appartiene, non vedo perché debba continuare ad appartenere a questo calcio. La motivazione è dal fatto che uno possa dire, beh, perché non si toglie di mezzo e va ad allenare il vero calcio da campo, che è il calcio che va, quello dilettantistico fondamentalmente, ma possiamo anche dire quello della Serie B in giù, perché già la Serie B ha dimensione sicuramente mediatica, di impegni molto minore, banalmente le nazionali non ci sono, giusto per fare, così come non ci sono le competizioni internazionali di club. Perché non va lì? È chiaro che è facile in qualche modo dire di non appartenere al calcio, però comunque rispettare i contratti e papparsi 5-6 milioni, almeno da noi, 5 milioni e mezzo da noi, e altri tanti milioni in altri club in cui è andato, tra il Chelsea, tra Napoli, tra appunto adesso Lazio. Perché quello che dice è fondamentalmente giusto, ma è chi lo dice, come lo dici, che un po' fa storzione nel naso. Perché se Maurizio Sarri oggi dicesse questo calcio non appartenere più e dal prossimo anno mi faccio da parte, vado ad allenare il pro patria, è coerente e fondamentalmente ci avrebbe anche ragione. Ma il fatto che dica quello che ha detto, che per quanto sia giusto, ma rispetto alla sua figura, cozzo un po', è un po' incoerente, un po' ipocrita come cosa, ecco, queste cose qua mi fa un po' storcere il naso. E va a darmi conferma rispetto a quanto si diceva quando si è detto dopo che Sarri ha lasciato il Vendus, che non fosse adatto a quel contesto. Sarri alla Juventus non è un attore scarso, sa, poi chiaramente si può dire che è un attore molto integralista e quindi non va oltre il suo quadrato, il suo perimetro di conoscenza. Però è anche vero che è un attore preparato. Ma è un attore che per n motivi, che vanno al di fuori di quelle che sono le questioni tattiche, non è adatto a questo calcio. E lui lo dice, ma effettivamente lo dice, ma rimanendo ancorato a quello che è la parte bella del calcio odierno, ma effettivamente la Juventus non è adatto perché non è, non tanto professionalmente, ma come personaggio, come il personaggio Sarri non è adatto a un contesto di top club, di top livello, o comunque di top serie. Quindi anche la Lazio, che non è un top club, ma comunque è una squadra che naviga sempre nella parte buona della classifica. Quindi è una squadra comunque di medio, medio alto livello, alcune volte. Quindi appunto per questo, volevo fare questo commento su Sarri, perché Sarri è un personaggio spesso criticato, ma secondo me non è criticato per un rischio solo, anche se solo per un'antipatia, perché c'è chi piace a Sarri, chi piace quello che è differente da Sarri. Quando piuttosto, perché lui nei suoi anni ha sempre dato veramente arito a polemiche legate al fatto che lui stesso si incastra in questioni che sono più grandi di lui, e che spesso la quale lui stesso si è adattato a criticare il calcio odierno, quando sei il primo a farne parte, e attenzione che lui prende quei soldi, cioè il calcio odierno è tarato su quei soldi, quei milioni di euro che vanno trappertutto, perché appunto perché si alimenta questo sistema con tante partite. Se la Lazio fosse una squadra di bassa classifica, Sarri e la Lazio non percepirebbe quello che percepisce ora, perché farebbe la Lazio in una partita, avrebbe meno appeal, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi lui stesso non è vittima, ma è in qualche modo complice del sistema stesso che va criticando. Mentre gli appassionati, appunto come li chiamano i tifosi, fondamentalmente possono anche estranearsi, perché io posso decidere se comprare tot abbonamenti, tot magliette, posso anche in qualche modo fare a meno, agganciare a un amico, non comprare magliette, che tanto vivo lo stesso con le magliette normali, non quelle di calcio, quindi il cliente tifoso, insomma, può decidere quanto acquistare, quanto spendere e investire nel calcio. Lui invece è ne è complice del sistema calcio di arma. Quindi cozzo un po', rende tutta questa questione veramente incoerente, lo rende anche i pochettari da questo punto di vista. Quindi poi va a confermare certe cose. Poi avete visto, lo sto notando, che Sarri l'anno alla Juventus ha un po' frenato alcune esternazioni, che poi ha recuperato, e sta recuperando benissimo, tra scuse, se c'è da poco, il Metto, tutte queste puntate qua, che a Napoli li si contestava, che secondo me gli hanno tagliato un po' le gambe da questo punto di vista alla Juventus, per ovvi motivi che conosciamo, e che adesso può risfogare. Quindi non mi stupisce il personaggio Sarri, e da una parte per fortuna che non è più appunto allenatore, non perché lui sia un allenatore scarso di per sé, ma perché è inadatto. E al tempo non è neanche stato colpa sua, come dici già al tempo, il fatto che fosse inadatto. quanto la colpa è di chi l'ha scelto, in quanto inadatto. Ma questo è un discorso che non riapriamo, perché è già chiuso e sepolto da un paio d'anni. Aspetto i commenti qui sotto, come sempre, forza Juve, e alla prossima. Ciao. Siamo sempre qua, storie in bianco e nero, dove abbiamo solo un ruolo, un viso da comparsa.